L'innovazione e la sperimentazione, nel settore produttivo che si occupa del lancio di veicoli sul mercato globale, diventano sempre di più due irrinunciabili focus, per guardare oltre come fa a Mitsubishi. Ammirare in profondità L'innovazione e la sperimentazione vera delle cose non deve per forza essere un concetto quasi metafisico di stile filosofico ma anche un esercizio con ammirare in profondità o, per meglio dire, come nel caso della Mitsubishi e, nello specifico, del Mitsubishi Fuso, il camper 4W di cassonato che rappresenta una clamorosa innovazione, un veicolo sensazionale. Come nel caso della, di che cosa parliamo nel merito? Di un veicolo, per appunto il cassonato Mitsubishi, che sembra un camion per struttura e stile, ma poi una volta entrati dentro, stupisce di che cosa parliamo nel merito? Di un veicolo che cosa offre in particolare? Il Fuso 4W di della Mitsubishi stupisce per lo spazio all'interno e per l'incredibile quantità di offerte e possibilità che garantisce, quello che abbia e che cosa offre in particolare. Il Fuso 4W di della Mitsubishi stupisce per tutti gli amanti del genere non c'è dunque altro da fare che guardare e stropicciarsi gli occhi. Per tutti gli amanti del genere non c'è dunque altro da fare che guardare e stropicciarsi un allestimento da urlo, che prevede uno spazio con cucina L con abitabilità davvero confortevole, un letto e un portellone a riba. Questo gioiello fa parte della nota categoria dei camper stealth, così definitivi per il semplice motivo di avere le sembianze di un veicolo commerciale, ma dentro una struttura abitativa davvero. Questo gioiello è un allestimento e uno spazio che trasforma un tipico furgone cassonato in un camper multifun. Delle vere case